E' un motivo di soddisfazione e un motivo di preoccupazione in questo senso perché ci abbiamo creduto fin da subito, vorremmo che questa nostra credibilità non si fermasse qui, quindi non ci stanno, quindi ti avremo raccolta ancora tutta la città come abbiamo già fatto e devo dire la verità che questo ha rappresentato un grande sforzo da parte di tutta la città, è stato meraviglioso come ha risposto anche l'ultimo passante, praticamente quando abbiamo chiamato raccolta la città per creare questo contenitore, questo progetto abbiamo avuto una risposta addirittura a 130, a 140 proposte di collaborazione e di progetti fattivi sono arrivati, in questa prima fase abbiamo avuto un'integrazione selezionale per cui non immaginavamo che la nostra città che troppo spesso si sente divisa anche sulle piccole cose, avesse la capacità invece di dare questo grande messaggio di unità e da cosa ci arriva più di gioia ma adesso ci deve dire di volontà per proseguire e migliorarci e soprattutto preparare un altro progetto, un altro prodotto che sia capace di vincere quindi noi ce la metteremo tutta, di nuovo chiameremo tutti gli attori a lavorare insieme a noi, con attori parlo delle varie associazioni, i vari corpi culturali e quant'altro per cui spero saremo capaci di creare un lavoro che sia definitivamente convincente sulla scelta rispetto alla nostra città, questo ci fa molto piacere.